buonasera ragazzi oggi stasera ormai e vorrei fare un video su tutte le modifiche che fino adesso ha portato la macchina e ogni giorno scopro roba nuova perché comunque il programma è molto vasto e sono uno dei pochi a continuare a girarci dentro quindi ogni giorno scopro qualcosa di nuovo ma partiamo dall'inizio partiamo dall easy link partendo subito questo qua è carplay in modalità wireless come vedete non ho niente attaccato le prese usb perfettamente pulito il telefono funziona cioè scusa carplay funziona molto molto bene senza lag senza problemi di sorta è una funzione molto molto comoda e qua ci siamo carplay wireless io non ho un telefonino android ultima generazione quindi perché android auto wireless funziona con sistemi operativi android 12 e 13 io non avendolo non posso provare se su questa macchina funziona poi abbiamo partendo da qua partiamo dalla schermata principale la schermata questa qua è tutto uguale come come sempre l'unica differenza che io è che ho il nome da questa parte e il menu da questa voi ce l'avete ribaltato ma io trovo più comodo avere il menu di qua che andarlo a schiacciare lì perché serve il menu serve qua comunque è questa qua è una piccolissima chicca che per comodità pagina successiva versione gpl perché una gpl drive in eco che non è presente su nessuna versione gpl anche questo perfettamente perfettamente funzionante mi dice gli stili di guida come sto guidando come dove posso migliorare dove non c'è da migliorare per la cambiata e tutto e ti aiuta qui a consumare meno ti dice chilometri fatti 257 ovviamente i chilometri fatti dopo l'azzeramento la media di 16,4 chilometri all'ora e questo è il consumo di benzina perché il drive in eco legge la benzina non legge il gpl per quello che è stato tolto dalla renault ma a me interessa più che altro per avere i chilometri parziali e il resto poi il multi sense con il tasto eco è stato attivato il multi sense e ovviamente è funzionante perché è legato al driver display come io giro in sport il driver passa in sport giro in in comfort questa qua comfort è una modalità in più che non non c'è sui multi sense normali e il driver display cambia in più dentro alle multi sense o delle configurazioni aggiuntive come il clima se voglio farlo lavorare normale o in in eco in regular in base come lo voglio far lavorare per risparmiare carburante o no le luci il multi sense io l'ho attivato per avere le luci anteriori posteriori e nel cambio attualmente come vedete non si accendono ma per il semplice fatto che mancano i led è stato preparato il programma i led li ho ordinati dalla francia con calma arriveranno ma con molta 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 calma e perché purtroppo in questo periodo c'è una crisi di chip importante e quindi questo è dobbiamo aspettare non c'è niente da fare poi abbiamo queste impostazioni di guida posso regolare lo sterzo comfort sport regular la risposta dello sterzo la risposta degli ammortizzatori e questa qua è una impostazione per il cambio automatico questa qua si chiama modalità veleggiamento e serve praticamente quando chi ha il cambio automatico per mettere la macchina in modalità veleggiamento quando l'acceleratore non viene premuto e poi 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 cosa abbiamo abbiamo questo infotrazione integrale che ti fa vedere l'angolo di imbardate l'angolo di pc della macchina no ovvio che non si non riesco a farla muovere comunque questi qua sono funzionanti come vedete io sono in una strada che pende verso il basso difatti ho un grado di inclinazione verso il basso e due gradi perché la strada sale sale su di là due gradi di inclinazione da quella parte poi poi abbiamo passando nel menu importante abbiamo programma di avvio motore anche questo è uno per lo sbloccato ma ci sto lavorando devo aver lisciato qualche parametro da qualche parte perché io se lo metto in non non ci va praticamente questa funzione cosa serve serve quando c'è freddo sotto gli 0 gradi meno 1 meno 2 imposti l'orario di accensione imposti l'orario di accensione e la macchina alla talora si accende e accende il clima come tu l'avevi impostato prima di spegnerlo e te la scalda in modo da fartela trovare pronta poi abbiamo la ionizzazione dell'aria la ionizzazione dell'aria come quelli del phone delle ragazze che si asciugano i capelli ionizza l'aria per renderla più pulita e più piacevole e più pulita anche questa è una funzione funzionante perché se io lo metto in on come vedete mi ha acceso il clima nell'ultima impostazione in cui io ho lasciato il clima ok e può essere messo come relax o in modalità pulire se io comunque lo spengo vedi vado a riaccenderlo riaccende nell'ultima modalità in cui è stato messo e accende anche il clima quindi il la ionizzazione anche lei è perfettamente funzionante il multisense l'abbiamo già visto il sensore di parcheggio questi qua non c'è niente di nuovo da vedere lì assistente la guida queste funzioni ci sono già presenti su tutte le macchine insieme all'angolo cieco che lo prendevi in optional la cosa che è stata aggiunta è stata la stanchezza del guidatore la stanchezza rileva praticamente come la macchina rileva come stai guidando segui di diciamo che come tocchi l'acceleratore come tocchi lo sterzo se la incapacitante si attiva molto non si attiva e in base a come guidi la macchina lui ti dice se stai se sei stanco no fondamentalmente configurazioni auto mi è arrivato un messaggio si è aperto carplay wireless dove eravamo arrivati adesso si riapre di nuovo carplay wireless configurazioni auto anche qua tante novità volume indicatore di svolta questo qua ce l'abbiamo tutti indicatore di svolta in modalità autostrada il classico è messo per 3 ok e non può essere settato in vari modi io invece ho attivato la funzione che lo posso settare l'indicatore autostrada cos'è è la freccia che se io la spingo poco si attiva per 5 e si spegne da sola se ovviamente la spingo verso l'alto resta attiva finché non mollo la leva se io la regolo per uno quando io giro qua ancora per 5 scusate perché avevo sbagliato a schiacciare comunque quando io la regolo per uno questa qua fa solo una serie di click e si spegne avete visto fa un click e si spegne per 3 che la configurazione standard fa tre serie e poi si spegne in autostrada è comodo avercela al per 5 poi sblocco portiera conducente io qua posso alla macchina gli posso dire di sbloccarmi con la keyless ovviamente di sbloccarmi soltanto la porta del conducente quando apro la macchina e il resto delle robe è classico che ci abbiamo tutti non è un problema questa funzione molto comoda secondo me per una donna che di sera va alla macchina magari fa un turno di notte e schiaccia o si avvicina la macchina e gli si apre soltanto la portiera del conducente anche quella è una cosa molto carina questi qua luce tergi anche questo è stato è stato è stato attivato lato di guida in base al lato di guida cambiano i la disposizione dei fari ok fascio luminoso adattivo ovviamente questo qua è una funzione che i nostri fari non hanno quindi non è cioè anche se tu l'attivi il fascio non sarà mai adattivo perché i fari non hanno la funzione adattiva follow me home automatico follow me home automatico che cos'è è quando spegni la macchina che adesso ve la farò vedere poi quando uscirò per andar via follow me home automatico serve per tenere le luci accese nel momento in cui io chiudo la macchina possono restare accese per 30 60 o 180 secondi e oppure metterlo in off e basta se io l'attivo a 30 secondi come ho classico io chiudo la macchina le luci restano accese avanti e posteriori e anteriori restano accesi per 30 secondi e mi illuminano la strada per arrivare a casa diciamo ok tergi cristallo acceso va bene tergi cristallo anteriore automatico questo qua è un'altra funzione aggiuntiva è stata aggiunta dopo io il tergi cristallo automatico lo posso inserire di inserire direttamente da qua il resto della roba ce l'abbiamo benvenuto questa qua è tutta roba che abbiamo anche noi cioè che abbiamo tutti diciamo manager dispositivi va bene sapete che io ho il wifi aggiunto per car play wireless e con l'easy link direi che siamo per i parametri che ho trovato in questo momento siamo più che a posto poi ho il driver display da 10 pollici questo qua vabbè risaputo ovviamente è stato un'altra cosa che non vi ho detto la retromarcia quando io metto la retro io ho la telecamera tutto schermo con i sensori di parcheggio direttamente lì e la telecamera posteriore ingrandita per la grandezza massima del mio easy link non ho più i sensori qua poi sensori direttamente lì che secondo me è una delle funzioni più comode in assoluto e poi il driver display da 10 è stato ulteriormente modificato per esempio io metto la macchina per chi avesse il multisense no io metto la macchina in eco ok comfort eco io metto la macchina in eco però quel quella visualizzazione qua a me dà fastidio non mi piace io voglio il contagiri girando in questo menu che è stato sbloccato che è questo se vai su cruscotto display tipo se io metto l'uno ho la macchina in eco ma ho la modalità sport del quadro per dire voglio avere l'easy link verde e il cruscotto sempre di questo colore perché a me verde mi sta mi sta addosso non mi piace anche qua vedete che cambia il colore lì verde ma qua resta il colore che io avevo impostato e anche qua si può cambiare da questa impostazione e lo posso fare blu e qua verde per dirmi per dirne una ok poi altre menu segreti che sono stati questo qua la temperatura dell'acqua direttamente così poi abbiamo la pressione pneumatici anche questa è una funzione che ho sbloccato devo comprare i sensori e finire il programma ma non ho tempo neanche di respirare l'orologio e qua è la musica che sto ascoltando questo qua il navigatore di carplay quando io utilizzo il navigatore mi viene proiettato direttamente lì questo qua sarebbe stato il navigatore 3d della macchina ma io non la centralina del music link non è predisposta quindi non ce l'avrò e questa è la famosissima bussola che abbiamo tutti per il resto sono i widget normalissimi che che abbiamo insomma che abbiamo tutti niente di eclatante sport aspettate che rimetto in my sense per vedere questi qua sono i classici widget che abbiamo tutti niente di incredibile ovviamente ho gli errori per quella funzione lì che è stata sbloccata perché infatti se guardate qua nel sistema da bababa bababa che è tutte le volte in casino impostazioni info vedete che io di fatti non ho più la pressione pneumatici come ce l'avete voi sto lavorando a questa a questa funzione aggiuntiva qua mi bombardano di messaggi poi un'altra funzione carina carina adesso spengo la macchina e la modalità battito cardiaco il pulsante di start and stop quando la macchina è pronta per essere accesa lampeggia in questa maniera adesso prendo le chiavi che vi faccio vedere un'altra funzione molto molto bella però mi devo chiudere dentro per farlo allora adesso ci chiudiamo dentro è caduto il video scusate si è interrotto il video allora come chiuso la macchina si è interrotto il video allora adesso diciamo ci siamo chiusi dentro e aspettiamo 30 secondi che questa funzione si si attivi e vi faccio vedere è un allarme perimetrale praticamente se ti aprono la macchina per qualunque motivo che qualche ladro rompe il vetro e ti apre la macchina la suddetta macchina suona adesso ci siamo si e apro la portiera e vi faccio vedere adesso la cosa perché continua 120 secondi se non la fermo e come vedete praticamente è la macchina lampeggiato e mi ha suonato come se fosse un allarme poi un'altra funzione molto comoda se io clicco due volte l'apertura dei finestrini i finestrini si aprono posso fermare anche così ovviamente li faccio dicendo ovviamente li posso anche richiudere col telecomando come fanno tutti e li posso anche aprire bloccare aperti richiudere sempre tutto col telecomando e poi abbiamo le c posteriori accese anche di giorno cosa che le manche del 2020 e 2021 non hanno ma le 2022 sì perché le c posteriori di solito dietro sono spente di giorno e abbiamo le frecce in modalità audi in pratica quando io attivo la freccia mi spegne la c della macchina ma questa modifica qua ho già pubblicata se già vista insomma non è un problema ma magari se volete vederla ve la faccio vedere col giorno perché ovviamente adesso essendo notte le fare posteriori sono accesi per forza perché la macchina modalità notturna